In questo breve video vedremo invece sempre su TAC come inserire immagini e video. Questa è la schermata iniziale, possiamo iniziare a lavorare senza registrazione, quindi clicco in alto a destra sulla matita, scelgo Blank Canvas, vale a dire una tela vuota. Ora per quanto riguarda le immagini è sufficiente cliccare su foto e qui viene fuori un'interfaccia. TAC ci permette di cercare da qui direttamente una foto oppure di farne l'upload, magari attraverso una nostra immagine dal computer, oppure prenderla da Instagram, da un eventuale account Instagram, oppure del caso più frequente da URL. Quindi io mi dirigo verso un database di immagini, in questo caso è Google Immagini, scelgo l'immagine della Gioconda, la visualizzo integralmente come ora, tasto destro, copia l'indirizzo dell'immagine, torno su TAC e inserisco l'indirizzo. Importa da web quello che devo poi cliccare. Secondo della velocità della rete, questa immagine, ecco qui, può essere importata. Quando ho fatto, clicco su Done. L'immagine è stata importata. Cliccando come al solito sull'ingranaggio posso operare delle leggere modifiche e allo stesso tempo posso regolarne leggermente, ecco, l'inquadramento dentro il mio TAC, dentro il mio cartellone multimediale. Stesso identico discorso per quanto riguarda i video. Per quanto riguarda i video io cliccherò su Video, si apre la solita striscia, TAC mi dice che può importare i video da soprattutto YouTube, Vimeo, Animoto, Instagram, Wine e molti altri. Ecco, se io clicco qui vedo tutti gli altri database di video supportati. Io vado su YouTube, scelgo il video, copio il link, tasto destro copia, torno su TAC, TAC, ecco, inserisci l'url, faccio incolla e subito istantaneamente TAC va a catturare questo video e io clicco su Done. Abbiamo quindi inserito immagini e video. Potremmo anche inserire dell'audio, per esempio dei podcast, con lo stesso identico principio. Clicco su Audio. Ecco qui, TAC può prendere tutti questi audio da SoundCloud, Spotify, altri siti. Noi stessi possiamo caricare previamente su SoundCloud un audio per poi prenderlo e qui inseriremo il link univoco dell'audio. In quel caso avremo un podcast dentro il TAC.